Ippica Nazionale, concorso 3.010, 1.600 metri. Riccardo Gambone, Taipan del Rio, Edoardo Lucisano, Tosca Grif, Elvis, Vessichelli, Tione, Andrea, Guzzinati. Favorito, Taipan del Rio. Prima dello stacco sbaglia Teres del Ronco, che sta continuando a sbagliare. Triade ferme per il comando. L'errore di Teres del Ronco. Numero 1, Teres del Ronco, squalificato. Triade ferme in vantaggio. Numero 8, Thanksgiving, ok, squalificato. Numero 13, Tosca Grif, squalificato. Triade ferme, precede Triade ferme, 13.6 lancio in terza posizione, Thanksgiving, ok, in quarta Tanagra Jet, così all'uscita dalla piegata. Triade ferme torna nuovamente in vantaggio. Il quarto in 33, 16.7 gli ultimi 200. Triade ferme avanti a Trejoly Club. Poi per corsie esterne di Juana Bay, migliora in mezzo alla pista Taipan del Rio. I 600 in 46 netti, 15.7 e 200 del rettilineo. Si viaggia a media di 16.7, passa a terzo all'esterno il favorito Taipan del Rio, uno dei favoriti. Chiuso da favorito, thank you, quota 2.53. Taipan del Rio perviene all'atto della leader, 1.02 e 3 per gli 800, 32 netti il secondo quarto. Guida Triade ferme il giro in 17.6, 15.3 gli ultimi 200. All'avanguardia Triade ferme, secondo in fuori Taipan del Rio, poi per linea interna sempre Trejoly Club, quindi all'esterno Troispeed Mech. Sbaglia Troispeed Mech, 1.32, 1 per i 1.200, 14.6. Numero 11, Troispeed Mech, squalificato. Con Triade ferme avanti a Taipan del Rio, Triade ferme, Taipan del Rio, Trejoly Club, poi thank you, Triade ferme sta allungando, in seconda posizione, Taipan del Rio, Triade ferme all'avanguardia, Triade ferme su Taipan del Rio, Trejoly Club, thank you, e Tanagra Jet. 13.5 gli ultimi due, 29.5 gli ultimi quattro, tempo totale 2.01.6, 20 al chilometro di 1.16, per il successo di Triade ferme, i colori dell'azienda agricola ferme, il training di Matteo Restelli e la guida di Flavio Martinelli. Tre Triade ferme, 12 Taipan del Rio, 7 Trejoly Club, il podio dell'Ippica Nazionale, concorso 3.010.